30 milioni di euro stanziati dalla Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore del Ministero della Cultura per il Sostegno all'Editoria Libraria 2022. Si tratta di contributi destinati a sostenere la filiera dell'Editoria Libraria, consentendo alle biblioteche di acquistare un importante numero di libri. Anche il Comune di Carlantino è stato assegnatario di parte dei fondi al Piccolo Centro. Andranno 2.000 euro con questi finanziamenti. Rivalorizzeremo ulteriormente la nostra biblioteca comunale che conta oltre 5.000 volumi. Cercheremo di promuovere la cultura anche attraverso la lettura di testi che andranno ad arricchire la nostra biblioteca e commento del Sindaco Coscia. In Italia sono state finanziate 5.362 biblioteche. In Puglia ne sono 217, mentre in Capitanata in tutto 38. Due di queste sono situate nel capoluogo Dauno, la Magna Capitana e la Biblioteca del Conservatorio Umberto Giordano. Le risorse assegnate, che devono essere spese entro 90 giorni dall'avvenuto accredito da parte della Direzione Generale delle Biblioteche, devono essere utilizzate esclusivamente per l'acquisto di libri. L'acquisto va effettuato presso librerie che si trovano sullo stesso territorio provinciale della biblioteca che ha ottenuto il finanziamento. Le biblioteche beneficiali dei fondi devono essere tutte aperte a pubblica e devono offrire servizio di lettura e consultazione in sede e in forma totalmente gratuita.